L'olfatto è un senso un po' trascurato? Eh sì, è trascurato perché per la vita che conduciamo adesso, cioè non ci soffermiamo, perché il problema è che per utilizzare l'olfatto bisogna essere attenti a tutto ciò. Noi non viviamo più una vita, viviamo una vita estremamente veloce, e quindi io dico spesso all'università mangiamo mentre saliamo con una rampa di scala da un piano all'altro, si mangia velocemente, fugaziamente, non c'è il tempo nemmeno di anusare. Questa è davvero una cosa non bella della vita di oggi, bisogna assolutamente riscoprire l'olfatto con un senso fondamentale, diciamo, per la conduzione di una vita sana, effettivamente, anche a livello fisiologico. Poi c'è tutto l'aspetto legato a livello funzionale, c'è tutto l'aspetto legato alla contaminazione olfattiva delle grandi metropoli, quindi ormai con l'urmanizzazione tutti vivono nelle città, tutti vivono in modo frenetico, quindi non c'è più il tempo appunto di utilizzare questo senso fondamentale. Il vino ha avuto anche questa fortuna, perché è indubbio che è stato ed è, come dire, il substrato e quindi lo strumento fondamentale per una riscoperta dell'olfatto, perché non esiste nessun altro, né alimento, sì, alimento, parlavo anche di altre bevande, non si annusa l'acqua, non si annusa un piatto appena ci viene servito, mentre è istintivo per il vino, che il primo atto è quello di roteare il bicchiere, mettere il naso nel bicchiere, prima di portarlo alla bocca. E quindi il vino ha questo grande merito di, penso sempre di più, quello di far riscoprire l'importanza dell'olfatto e l'importanza degli odori nella vita degli uomini.